Ben ritornoschio su Lion Laboschio, senza perdere tempo! Un pacchettino, perché? Adesso ve lo spiego, questo pacchettino è di fondamentale importanza per il genere umano. Se riesco a farvelo mettere a fuoco dalla mia fotocamera magica, sarebbe una cosa bellissima, ma ella sembra essere contro di noi in questo momento, perché finché vede la mia faccia, preferisce me al pacchettino. Ma forse così? Brava! Brava sì! Sì, tieni a fuoco il pacchettino, guardate! Il pacchettino che dentro, al suo interno, possiede dei tesori, delle ricchezze spaventose. E questo pacchettino ci predirà il futuro come fanno sempre. E ci sta dicendo che Piadina, dentro la stanza voodoo, ma niente di meno che è constrecato! E, no, questo non c'era, non l'abbiamo visto. E però, Gerica, avete capito bene quello che ci è stato detto dal pacchettino? Sempre robe d'amore, comunque. Cioè, è una cosa che sembra essere una cospirazione, però ci sono solo cose d'amore. Non so perché. Vediamo cosa ci dice Alex. Magari aggiunge qualcosa. Aia, mi sa che qua c'è la canzone di Rihanna. Dobbiamo coprire la melodia. Pronti? Umbrella, però bisogna... Mamma mia, che difficile però ogni volta. Non si può vivere questa maniera. Cioè, io devo fare un corso per coprire meglio questo genere di Audi. Perché bisogna fermarli, altrimenti lì lo sai. Poi cosa succede? Il copyright è senza pietà, eh. Senza pietà. Ma andiamo su Among Us. Mi mancavano i Meme di Among Us, infatti. Mi stavo chiedendo dove erano. Cioè, i morti devono stare zitti su chi ha palle. Tu, succa, ti sto bambarone, dai! Ah, qua è un altro episodio dove Anna si piscia addosso. No, Bastiano! Anna! Non ricordo perché, però. Anna, guardiamo. Anna, cambia i cresciuti capelli. Ti pisci addosso. Cambia i capelli! Dai! Pongeram. Allora, Pirtorgio? Sì! Ci sei? Sei vivo? Sì, ci sono, sono vivo! Va bene. Allora, c'è un segreto nel video di oggi. Vedete, noi abbiamo aperto un pacchettino. E ci ha detto delle cose. Quindi noi adesso stiamo attenti perché è probabile che becchiamo la rivelazione stellare. Del pacchettino perché prevedono il futuro. Provare per credere. Potete fargli qualsiasi domanda. Noi in questo caso gli stiamo chiedendo qualcosa sul video che stiamo facendo. Vediamo se riusciremo a cogliere. C'è uscito Piadina. Mi ricordo più. Piadina. Sostanzialmente era Piadina. Ma posso vederla io la foto, scusa? Tieni. Mi ricordo cosa successe. Ma cosa mi hai dato? L'imbecille! Ma cosa devo vedere? Non lo so, setta. Ma cosa stai? Smetti di vomitare cose! Questa è la serie di Anna. Sulla sua isola. Dovete guardarla sul suo canale. Mi raccomando. Guardala. Un fermo enorme le ho messo io! Ho ho! La Ionio! Ho ho! Incredibile! Senza meno sono veramente un jokerst. Un jokster. Un trickster. Un... Trickeballakster. Proprio uno che non me la faccio fare sotto il naso da nessuno. Io sono il mastro dello scherzo. Proprio un... Mamma mia! Un troll, vero? I troll. I troll. Un'altra serie ormai da tempo scomparso. Questo era per i tro... Per tutte le serie che non ci sono più. Dovrei rispondere, tra l'altro, a una cosa che me lo chiedete spesso. Magari così sapete. Allora, l'episodio scorso stavamo parlando di serie che non ci sono più, no? Tipo Granny, Raft, che è finito da poco, Baldi. Se vi ricordate. A volte ritornano, eh. Però, per esempio, la Failcraft 3. Molti di voi si sono accorti che io l'ho interrotta così, molto bruscamente. E sono rimasti un po' così. Ma perché? Vi spiego, è semplice. Il fatto della sconosciuta, la presenza di questa persona che io non riuscivo a eliminare, stava cambiando la nostra avventura in un modo che io non potevo prevedere. Cioè, era una cosa che mi... Mi stava dando fastidio. Quindi ho deciso di fermare e ricominciare, capito? Una nuova avventura dove non c'era la possibilità di avere il disturbo di questa persona. Ecco, semplicemente questo. Quindi, spero che capiate questa scelta. Anche perché poi, insomma, di serie ne avete in abbondanza sul canale di vecchie, di nuove. C'è sempre qualcosa di nuovo e sempre qualcosa di vecchio da vedere. Quindi, non potete preoccuparvi di niente. Procediamo che abbiamo un meme di Lion Lab. Quindi ci sono due me. Grossi. Mambo. Sai come Pingu. Io sono bravissimo a imitare Pingu, eh. Guarda, eh. Sa fare anche... Sono perfetto, sono uguale a Pingu. Così è uguale. Sono bravi. Sono... Io, voi non lo sapete, ma io sono il doppiatore universale di Pingu. È come un pazzerello. Anche questo so fare. Molto bravo. Questo è bellissimo. Sì. Amma, fare in Malesa. Bel meme. Avevo chiesto io di farlo questo, se non mi ricordo male. Direi il prossimo, che stiamo perdendo troppo tempo tra discorsi romantici e altre cose. Insomma, va. Siamo dei meme, mica romanzi rosa. Anna, la dea. Buona. Francesco, tutti. Francesco. Speriamo che non ci sia il copyrighted bello figo, perché manca quello. Non so se ci fate caso, ma nella scena c'era Piedina e Alex e magari prevedeva quello, il pacchetto. Ma questo è un compilation di Amoncas. Piedina, vedi? Piedina senza amore. Aspetta. Questa scena ci dà un indizio pesante. Allora, era uscito. Era uscito Piedina. Con chi era uscito? Con Alex. Quindi questo ci sta dicendo che Piedina è senza amore. Ma forse che non lo sarà più. In effetti, se ci pensate, Piedina è l'unico che non ha una ship. He he. He he. Le carte forse ci stanno dicendo che dobbiamo fomentare la nascita di un nuovo amore. Magari con Alex. O non mi ricordo chi era l'altra carta che è uscita. Mi pare Alex. La Pialex. Eh? La Lexina. No, Pialex. Però Pialex può essere anche con piace. È un mistero che lascio nelle vostre mani. Non voglio metterci bocca che poi qua sulle ship siete voi a comandare. Allora, noi non li siamo aggiustando. Prossimo. C'è. Ho visto una botta. Ho visto una botta. Eh, l'ho vista anche io lì su. Sì, sì. Quella risata. Ho visto tutto io. Io l'ho visto entrare e tu l'hai visto uscire, seriamente. Sì. Che schifo. Assurdo. Alex è morto anche qui. Perché è morto? Jerry, spiegami che cosa hai visto, forse. Ho visto Giorgio uscire dalla botta. Che schifo, che sedia disgraziata. Che pena. Che schifo. Che pena. Cioè, come è possibile? Ma tu ti rendi conto? Tutti rendi conto che io ho visto la botta a chiudersi perché tu ci sei entrato. Lui l'ha vista. In che stanza? Beh, bravo. Mettiamo fine a questa scena di pena. Guarda che roba. C'è chi è portato per giocare alle cose e c'è chi invece no. Chi no. No. Qua c'è il collegio. Il collegio partono dei copyright. Solo a dire collegio ti arriva la tigre dei denti a sciabola in testa, eh. Vediamo se parla poco e magari si può vedere. Vai. Alessandro. Eh. Non l'ha fatto niente. Fa ridere ma non mi fido. Non mi fido perché so già. Potrebbe andare a finire molto male. Tigri dei denti a sciabola. Dragoni piselluti. Cioè, non si può sapere. Cos'è qua? Ho una roccia in mano. Guardi. Guardi. Guardi Anna. Ah. Ti ha tirato una roccia. Capitano le permette questo? È stupido. Ho buttato un creeper nella lava. Un creeper nella lava. Ho buttato un creeper nella lava. Eh Alex, no. Ho buttato un creeper nella lava. Alex è un po'. Eccolo, eccolo, eccolo. Dove tutto è nato. Mi interessa? Mi interessa? Mi interessa? Te l'ho chiesto? Te l'ho chiesto? Cioè, dal nulla. Ti ho forse chiesto com'è andata la tua avventura. È simpatica la mia avventura. È irritante. È irritante. Sì, sì. Lo so. Lo so. A volte. Ma spesso anche. Quasi sempre. Ok? È proprio irritante. Io stavo vivendo alla mia avventura. E lui dal nulla? Era in Cile probabilmente. Neanche l'abbiamo visto. Non ci interessava niente. Perché io penso a voi. Voi sentite lui parlare di una cosa che non avete visto. Chi se ne frega. Quindi, senti. Ho dato un creeper nella lava. E sbroccato lì. Io ho sbroccato. Non mi vergogno di dirlo. Ho sbroccato un pochino. Ma neanche tanto poi, eh. Mamma mia. Cos'è qua? Ha vinto. Quell'imbecille di Alex non ha affatto in tempo neanche ad aprire quella sua... Ma non si vede niente. Voi non vedete praticamente nulla. Sì, anche io. Mi sono immaginato la scena, però. Sì, anch'io. Perché si sono abbracciati. Hanno visto l'impostore lì da lontano. Ma l'impostore ha un tentato. No, no, questa cosa è sporcacciona. Cioè, ho visto cose che non dovevano esserci. No, no, no. E questo qua sembra bello? Che è? Ma che mi hai preso? Una malattia? Eh? Perché ho il cappello di Cico? Ah, sì, il racconto. Eh. Bellissima questa animazione. Non so se l'avete già vista. Ma nel caso merita perché... Sì. Mi sterro la lettera qua dentro per non farla leggere a persone indiscrete. Piadina. Allora, c'è scritto. Signor Lion WGF, lei è richiamato a tornare nella sede di Lion Lab. Eh. Non è che è lontano. Se lei non dovesse completare questa missiva, cioè fare quello che chiediamo noi, saremo costretti a inviare il nostro esercito di punte puntute demoniache. Mannaggia le punte! Prenderla di forza. No, quello sono io preso di forza, imbavagliato, legato e frustato! Capite? Mi invitano a tornare in fretta, altrimenti ci sono alleati, cioè gli ignomi appunto e cresciti alleati per menare me. Comunque questa cosa è attuale, eh. Adesso ne parliamo. Dobbiamo fare, prendere e buttare... Tutto. Quello era il tutto. Allora, sto fatto degli ignomi e cresciti alleati, è la verità. Di là... Vi ricordate che scorsi video siamo andati di là per fare gli spacchettamenti, no? Delle card mie, dei Pokémon e basta, perché le scarpe le abbiamo fatte di qua. Di là, poi, quando io sono entrato, ho trovato uno standardo, una picca, vedete, proprio un coso, un bastone, appuntito. Sopra c'era una mia testa di carta pesta, fatta da chissà chi, dagli ignomi e dai cresciti, per forza. Realizzata proprio ad opera d'arte, a mia immagine e somiglianza, impalata proprio nel palo, questa cosa fa. E c'era sotto, c'era scritto proprio un pezzo di legno, con una scritta sopra, eh. C'era scritto, a morte lion, stupido. È stupido, ho sottolineato pure tre volte, tra, tra, tra. A morte lion, stupido. Eh, capite? Quindi io di là, infatti c'era Anna, perché mi sono fatto accompagnare. Quando c'è qualcun altro insieme a me, a parte voi, i cricetti e gli ignomi non fanno, capito, i matti. Lo fanno soltanto quando siamo da soli. Quindi finché c'era Anna siamo stati tranquilli. Ma fidatevi che se ricominciamo a fare video là da soli, secondo me succederà qualcosa. Mi aspetto almeno, almeno, non lo so, un'esplosione, un fulmine a ciel sereno, un'onda anomala, un, boh, un terremoto, solo nella mia stanza. Una, una, una testata nucleare sganciata dal sedere di Giannone, come si chiamava? Gennaro sedere strano, non mi ricordo, no. Francescone sederone. Eh, me ne dimentico anche. Quindi, boh, prepariamoci perché il momento della purificazione potrebbe essere vicino, ma per questa volta, lion out.